No, non mi viene No, non mi viene Ok 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 Allora Eh Eh Eh, boh, spostati qui Eh Eccoli qui tutti Allora No, non voglio ragione Voglio Dardo di fuori Allora 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 Dardo di fuoco Allora 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 Ok Ok Allora 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 Prove di caratteristica Desistenza Allora Desistenza Ok Termina turno Scatto E' proprio quello che non volevo fare Allora Carlac 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 Poi Allora 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 Di qua Di qua Di qua Ok Ok Guarda Catto Di questi qua Leggermente ubriachi Allora Allora Eh Posso un po' di qua Non c'ho l'azione? Non c'ho l'azione? Non c'ho l'azione? Non c'ho l'azione Non posso fare nient'altro E allora D'uno Che succede? Tutto per l'assoluta Spaccio 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 Io mi aspetto Senti Allora C'hai una Qualcosa Di 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 Distanza Allora Stragazione Occulta Vai Spaccio E' l'un Poi Spaccio Funzione Virtuosismo Non può fare niente Terminatore Che arrivano? Ok 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 Allora Fuorosco Vuol dire che è il momento Che mano Che cacchio Tardo di fuoco Tardo di fuoco Tardo di fuoco Tardo di fuoco Allora Tardo di fuoco A te O a te Mi sembrava di poterlo fare Ma vabbè Allora Qua Dardo di fuoco A te Che potrei Perché questo Posso farlo secco Qua Vai Vai E' mancato Va bene Ok 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 Scattano Allora Ora Questa 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 Beh Si attacca In mano primaria Facciamo un bel Un bel dannetto Questo Attacchio Un momento Gratuito Gratuito Vabbè Ok Perfetto Ok Ok Ora Unicorno Sì sì Benissimo Belli tutti vicini Al coso Avvicinati tutti Al barile Quello Mi sa di esplosivo Allora Ok Poi Ok Com'è quello esplode Prova E Calla Sapevo Il bel danno L'abbiamo fatto Poi Direi Cosa La costa Paola Un po' indietro Eddito ora C'è Sto livello Siamo di costa Allora Ok Poi Cominceranno Queste Preoccupanti ok che posso fare persone per effettuare le reazioni grazie di hadar deflagrazione e che palle bene benissimo in timone infernale boh e due sono andate ecco quello ora ok mano primaria no 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 tu vai allora vai lì ritardo di fuoco ritardo di fuoco serenamente a posto poi c'è l'attacco a distanza c'è l'attacco a distanza ma se ce l'hai e che palle e vabbè niente termina il turno adesso avanzo un poco e faccio un bello bello è una cosa che mi fa male ma non devo spegnere le fiamme allora qua ah e l'è andato ok poi poi bene tutti scattano va bene c'è da menare questo allora qui c'è da menare questo ok allora faccio il caida guardia e lui c'è da fargli male allora anzi attacco attacco mano primaria ok 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 sbilanciato poi a posto io direi fischi ferite facciamo di livello 1 non posso allora però quello che posso fare quello che posso fare che posso fare un cacchio niente darlo di poco vantaggio vai ok ah non è più sbilanciato vabbè fai uno spirituale ah si allora quanti punti mi tacciamo è più sbilanciato eh ok lascia guardarmi penne vai ok iniziato va bene tu non puoi fare nient'altro e niente quindi eh che distanza che distanza vabbè eh a distanza ok poi dita va bene vediamo vabbè calma va bene ora io direi 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 faccio candello incantato poi c'è 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 va bene no ok calma incantato stacco mano primaria questo 95% magari colpo critico è andato giù benissimo quello più pericoloso l'abbiamo fatto fuori ok ora ora che cosa posso fare niente ok bene intanto non c'è più perfetto ora io direi è andato più vicina allora è poco perforante tante 5 ford compagno vabbè dai venito aperte c'ho vittuosismo sì avevo vittuosismo perché non posso stare vittuosismo vittuosismo ok perfetto poi vabbè in tiro in infernale vaffanculo second è fatto ok bene allora attacco in mano primaria no voto mezzi a quasi andiamo su allora tardo di fuoco tardo di fuoco vai porto in inferno altro possiamo fare niente non posso fare niente va bene torno quindi te che distanza mano primaria è qua vai interrotta benedizione bene è il mio turno qua posso seccare questo tanto questo posso incantarlo ogni volta che voglio se non lo so posso fare questo poi andare su di lui su di lei buono e un altro l'abbiamo seccato uh c'ho l'attacco bonus vero ho l'attacco bonus non lo fai fare scherzava non è vero vabbè è mancato vanno scappando perché capito la situazione allora te no provo l'attacco no io non voglio te fai cazzo tentando per cento con svantaggio no svantaggio svantaggio in ogni cosa che ti fa vabbè niente sisma non lo fa non lo fa fare più effettuare il ritorno breve vabbè niente arma spirituale niente lasciami penne ok perfetto e la sposto in avanti poi va bene andiamo qui farei farei danni allora caldo tracciante no non posso perché deve essere forse va bene allora aspettate qua mi sa che ci faremo più puntate mi da è abbastanza però che posso fare ok allora ok dai ma por perché non ha non ho capito cercate un'altra vai pochiamo ah minchia sempre va bene allora karlak non sto sempre con questo va bene e vabbè prossimo turno no allo qua poi fortileggio forza a distanza vai e pascoli va bene ok allo io notare danneggia ogni creatura che entra nel bagliore inizia su turno all'interno può usare questa azione per muovere il bagliore argentato di 18 metri concentrazione di chiesa all'interno aspettare e proviamo su bagliore l'uomo pensavo fosse no 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 senti potello di ghiaccio no secondo livello no facciamo primo ok ok vai ok ok e due sono seccati salvo poi termina il turno di qua e posso allora occuperei di te farebbe la bella di fare cazzo bello l'abbiamo seccato turno ok pochi toc corosco qua sposta aspetta stardo di fuoco a te cazzo solo due vabbè va bene poi eh a me ammenagli male a post poi vabbè va bene mi sembrava molto ok nessun problema nessun problema nessun problema nessun problema è piano quello la battaglia la battaglia tanto di fuoco va bene pascoli va bene vabbè ok a posto, perendo, poi un peccato oh Grazie. Niente. Ah. Allora. Sei morto. No, 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 no. Io devo farlo. Allora. Io direi. Il mandato di fuoco. Qua. A te. Qua. Sortileggio di quella. E torno. Qua c'è. Ok. Ah. Ok. Vabbè. Allora. Eh. Ah no. Te. Carlac. Vabbè. Carlac. Carlac. Andiamo a menare. Di brutto. Vai. Vabbè. Dove è. Posto. Poi. Eh. Quello è mai morto. Direi posso. Concentrarmi su altri. E quindi. E quindi. Tardo di fuoco. A te. A te. A te. A te che rompi il scato. Allora. Però porca miseria. Non c'è sempre così. Debole siamo con. Con le cose. Allora. 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 No. Provoca attacco. E allora. Provoca attacco. Provoca attacco. Vabbè. Eh. Eh. Ho capito. Ciao. Tuttura. Così. Alle spalle. Il crotismo. Non me lo fai fare. Niente. Ciao. Ok. Arma spirituale. Tendente. Madonna. Oh ma. Due fallimenti. Ragazzi. E allora. Allora. Qua. Stardo di fuoco. Due danni. Ecco. A posto. Poi. Poi. E... Che abbiamo? Aspetta. Va bene. Va bene. Vabbè. Spino. Adesso sta. Gli fa tre danni comunque. Vabbè. Attacchi il vento. Non c'era più. Attenti. Attacco mano primaria. Ecco. Posto. C'è anche per s'andare. Poi. Pose. Poi. Armi potenti. Attacco bonus. Vai. Attacco bonus. Vai. Minchia. Un punto ieri ma. Minchia. Resiste. Resiste. Attacco mano prima. Un movimento non suffice. Perfetto. Tardo di fuoco. Vai. post. Post. Post.